Buongiorno a tutti, vi presento un nuovo modello realizzato dalla ditta Cercelluti di Penne Pescara che presenta praticamente delle chicche esclusive, organetto in noce, in tarsi vari, da diciamo dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra e quant'altro. Lo andiamo a provare, io reputo che sia veramente un ottimo strumento sia per qualità prezzo sia per caratteristiche in generale. Andiamo a vedere, è un berret con accordatura particolare, originale e targata Mauro Cercelluti per l'appunto. Facciamo un test, vediamo come suona. Facciamo un test, vediamo come suona. Benissimo, se siete interessati potete contattare il maestro Cristian Ruggeri, il maestro Mauro Cercelluti. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto.